Dopo il devastante incendio che ha distrutto una parte della riserva danunziana a Pescara ai vigili del fuoco con il sindaco Masce e il comandante della Polizia Municipale Palestini continuano ad effettuare sopralluoghi, stavolta per la verifica del funzionamento degli idranti. Stiamo verificando la portata dei bocchettoni di acqua presenti all'interno della pineta perché ce ne sono molti, ovviamente servono per riempire d'acqua i mezzi dei vigili del fuoco stanno verificando rispetto alla portata e alla potenza del getto in quanto tempo si riempie il mezzo parliamo di qualche minuto perché qui abbiamo un getto di 800, 1200, 2400 litri al minuto quindi in tre minuti si svuota un mezzo di 8.000 litri. Insomma i vigili del fuoco hanno detto che l'Unione fa la forza e hanno detto anche che bisogna tenere il sottobosco di conoloro pulito per evitare incendio. Sì, qui c'è un dibattito aperto oggettivamente, noi abbiamo una riserva naturale, ci sono zone a riserva integrale questa del comparto 5 che purtroppo è andata quasi distrutta, è una riserva integrale dove da circa 30 anni non si entra perché ci sono dei limiti nel momento in cui bisogna fare in modo che la natura faccia il suo percorso. Con i vigili del fuoco e con gli esperti ragioneremo su come bisogna tenere una riserva naturale in un'area molto antropizzata al centro della città, soprattutto abbiamo ragionato anche per l'organizzazione di corsi per i cittadini perché abbiamo visto cittadini impegnati in strada a difendere il proprio territorio, i beni della propria comunità e questo è stato bellissimo però vogliamo fare in modo che possano essere istruiti su che cosa fare nel momento in cui avviene un incendio perché l'incendio può succedere, noi dobbiamo fare in modo che l'incendio quando succede faccia meno danni possibili tenuto conto del fatto che questa pineta si trova all'interno della città, ci sono condomini vicino alla pineta dobbiamo tutelarli, quelle scene a cui abbiamo assistito di persone che fuggivano dai condomini noi siamo andati a suonare i campanelli per far uscire le persone da casa, non vogliamo più vederle ciascuno deve sapere cosa deve fare nel momento in cui c'è un incendio, come agire perché quella domenica c'era tantissima gente in pineta e fuori da pineta ma il vento che soffiava a 150 km orari, un caldo di 43 gradi centimetri sono stati superiori rispetto alla forza di ciascuna persona e anche della comunità intera ma comunque oggi dobbiamo pensare a ricostruire grazie grazie grazie